3, 2, 1, go, 1, go! Ragazzi ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video Abbiamo accumulato veramente 4 one up box 4 one up box che abbiamo accumulato nel tempo Sì, nel tempo l'abbiamo accumulato perché appunto sono di vari mesi e non li abbiamo ancora aperte Fortuna Vabbè, partiamo proprio da questa E no, devi prendere una sola e una io No, una sola, la vuole Allora, apriamo C'è questa... Cosa? Questo tipo peluche E sono figuri Per me c'è questo qua Per me c'è il maschio Il maschio Questo qua C'è questo Questo, questo Per me c'è... O questo o questo No, decidete uno Allora... Per me c'è il maschio Allora... 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 Per me c'è il maschio Allora... Allora... Guardate il caino Io prendo questa E' una spesa di quella che non serve Io questo Così facciamo tutto questo Perché? Io ho preso una penna tutta... Degli avendo la stessa tutta colorata Quanto è bello! 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 Allora... Lo apro Perché lo devo mettere a scuola Perché lo vado utilizzata C'è... Lo amo Radà! Guardate questo sciuritto Questo... Sceandolo Troppo bello Guardate quello là Che sta in un cartone Giù ma è inutile che ti agli Quindi vedevo da piccolo Ma è troppo bello quel cartone Ma è la... La cosa bella dei presenti Questa penna E' troppo bella Perché è sottile Rispetto a quelle penne tutte colorate No? E allora è colorata Ed è bellissima C'è bellissima Non l'ho detto C'è... Già l'ho rutto No! Non l'ho rutto Mi strudillo Fammelo vedere sta io Vabbè... Imprevisti a cataccio Vabbè... Lasciamo vedere Ma è normale C'è una... Nuovissima maglia C'è... Nuovissima Da qualche mese Questa maglia No, no No, no No, no Allora Poi Questa Che è una ziggurittina C'è una... 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 Noi non la mettiamo sulla maglia di Marghe Giulia Ovviamente non si mette sulla maglia di Marghe Giulia E poi c'è... La solita stilletta E un... Gettine Giuli ma questo... Può essere... Può essere un gettine per tipo con le giostelline A dove l'hai preso? Da qua dentro Una... Due... Tre... Via! Oh! What che bello! Guardate No, questo me l'ho aprito C'è nulla di Dory Dory Tra queste polpini E guardate C'è... Sempre quei esistimi che si attaccano E' di... Così di uno personaggio stranissimo Non mi ricordo No, però esiste ancora National Figures Come si chiama sta cosa? Ehm... Come si chiama? Mi abbiamo un sacco Ragazzi... Il Funko Pop... No... Panko Pop Panko Pop Forse... Non lo so Quanto è bello! Panko Pop Ora... Superfacente Maya Molto molto bella C'è pure Dory Quanto è bella! C'è la Dory E... Infine... Cosa? No... C'è sempre la spilletta Ah... Eccoci C'è la... Bellissima spilletta Vabbè... Poi detto E questa è sempre una cosa rispettata Guardate quanto è bella! Lo mettono Siamo un casino Lo metto Siamo un casino Cortellina ma c'è Andiamo avanti La copri Ya... Apri La torre La torre Questa... E' una tipo... Quelle cose velicola Però... Oddio... Della Marvel Aviamola No... Hai coperto C'è il coperto Per ora Dove sta la cortellina? Catellina è così Ma... Della e' così Ma... E... Ma... 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 Una scena Ma... 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 vediamo cos'è c'è tutto il brutto di capitato io lo conosco ho messo nella felicità che fa ridere ok io ho vittuto questa volta vabbè andiamo avanti quanto sei bello cos'è stupo vieni ma che ne sono io mi piace montare ma vedete siamo un casino lo ammetto guarda c'è mia sorella è cretina ecco qua ecco dammi l'altro pezzo questo ci lo mettiamo in viramento lo mettiamo in viramento lo mettiamo in viramento lo mettiamo in viramento e lo mettiamo in viramento è un casino è una persona normale e lo mettiamo in viramento ma non lo sai poverino fai questo qui che non è il fogliettino vabbè dovrebbe andare tipo così come una piattaforma così e poi il profumino è una bellissima crudura 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 avanti prendila dopo le prendo un'altra boh coltellina 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 dai coltellina facciamo tutto il tipo per coltellina 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 è troppo morta coltellina coltello cortellina coltello coltello cartellina coltello lo yoyo degli Avengers mi piacciono meffica degli avengers ma dello yo-yo ma è uno yo-yo si ma sarà un giorno o un giornito quando uscirà da fuori questo uomo che si fa a questo uomo? me lo ricordo lo yo-yo non ci gioco da tipo 3 anni ma che mesi? è vero che mesi? un sacco di mesi da ma io non mi ricordo come si gioca me lo ho là le prendi i tiri ma scusa poi non ritorna in giro ritorna però dopo di scena e poi non ritorna più ah non mi piace la in giro io sto in giro questa maglia è troppo bella e simpatica lei mi gusta cartella cartellina poi c'è ci sono due cose uguali poi c'è questo c'era un adesivo e infine c'è questo che è questo e che si fa? è che si fa questo cosa? oh c'è questo cos'è? non lo so io te lo devo mettere ah forse si dà la carica ma non è che ho perso un pezzo? no non è perso un pezzo vado via vabbè quindi ragazzi questo era il video spero vi è piaciuto a noi vi è piaciuto tantissimo ispiratevi a instagram marghe giulia kawaii su facebook marghe giulia kawaii su youtube marghe giulia kawaii sul secondo canale magi tv e agli altri soltanto fate i magigini e magigini ciao